Continua nella città di Agropoli l'ospitalità dei dieci bambini del Sarawi provenienti da tre diversi accampamenti profughi del deserto del Sahara. Accolti dall'Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace presso i locali dell'Oratorio Padre Giacomo Selvi fino al 27 agosto, i bambini stanno trascorrendo giorni sereni nella cittadina cilentana, grazie anche alla solidarietà di tanti che si sono messi a loro disposizione, aprendo le porte del cuore ed anche quelle delle proprie attività. Ogni giorno sono ospiti presso il Lida Aurora di Leopoldo Stromilli per fare il bagno, mentre nei giorni scorsi sono stati presso il luogo d'arte Carmine Pandolfi per un pomeriggio dedicato all'arte e alla creatività. Pennelli, colori, tavolozze e maestri d'eccezione per insegnar loro ad esprimere cromaticamente tutto ciò che hanno dentro. Per chi volesse trascorrere con i bambini del Sarawi del Tempo o ospitarli per qualche attività ludico-ricreativa, può rivolgersi al personale dell'Oratorio Padre Giacomo Selvi di Agropoli.